amiche ed amici di twittami beautiful ben ritornati in nostra compagnia con un nuovo podcast dobbiamo parlare di spoiler molto interessanti che arrivano dall'america ma c'è tanto da dire tanto da considerare in effetti brad bell parlando del fatto che business is business e quindi sono i soldi che fanno girare il mondo anche quello delle soap giusto per dare una rinvigorita alla nostra amata beautiful e presto morirà un personaggio almeno è questo che il capo della squadra autori di the bold and beautiful ha annunciato negli ultimi giorni c'è una rosa di candidati a questa di ripartita fra i personaggi iniziamo dalle signore tra le papabili ad uscire di scena e poi bisognerà anche capire se sarà un'uscita di scena definitiva o una finta uscita di scena come la morte presunta di thomas nella vasca di acido alla forrester creations ma iniziamo con shauna falton è un personaggio che in effetti potrebbe sembrare aver esaurito le sue potenzialità narrative è la madre di flo la figlia di storm ritrovata da poco e da poco finalmente perdonata e ritornata in seno alla famiglia logan addirittura le hanno dato il cognome ma è abbastanza strano perché in effetti si tratterebbe di una potenziale nemica di brooke già lo è stata e ancora lo sarà nelle puntate che stiamo per vedere qui da noi la seconda papabile è katie logan in effetti è stata molto vicina alla morte più di una volta vuoi per il trapianto di cuore e vuoi per il trapianto di reni e insomma è un personaggio che se la gioca a dadi con la morte più volte nel corso delle delle puntate ma brad bell vorrà davvero eliminare katie logan io non credo è un personaggio ancora utile nello svolgimento delle trame e poi ci sarebbe la stessa flo di cui abbiamo appena parlato un personaggio che è appena rientrato nelle grazie della famiglia di origine e che sta per sposare l'uomo della sua vita infatti wyatt spencer le ha chiesto di sposarla proprio nel giorno in cui ha firmato i documenti da parte della famiglia logan per adottare in maniera legale il cognome del defunto padre e passiamo adesso ai papabili uomini che potrebbero essere le prossime vittime partiamo da fin fin john finnegan detto fin è il medico che ha fatto capitolare stephy forester la quale attende un bambino da lui e ha accettato la sua proposta di matrimonio un personaggio del quale si sa ancora molto molto poco potrebbe essere un peccato eliminare un personaggio del quale si può invece costruire molto si può narrare un background si può immaginare una parentela con qualche personaggio già importante nella soap qualche personaggio storico chissà il secondo papabile sarebbe thomas forester il quale ha già cercato di lasciarci le penne senza però nessun tipo di conseguenza nefasta infine il terzo personaggio è vinnie walker è l'amico di thomas quello che gli ha fornito la droga per far andare su di giri liam è quello che ha manipolato il test del dna perché voleva nella sua mente contorta fare in modo che hope lasciasse liam per poter dare una chance alla storia d'amore possibile col suo amico d'infanzia thomas forester ai nostri occhi forse il personaggio che ha più chance di venire eliminato è proprio vinnie il quale ha sicuramente esaurito la sua il suo ruolo narrativo perché è sempre stato un personaggio assolutamente secondario che però ha svolto un ruolo principale sempre ai fini delle narrazioni che coinvolgono fin steffi hop e liam perché alla fine questo dna è stato modificato i risultati del test sono stati alterati quando è saltata fuori la verità una coppia si è unita quella di steffi e finna ed una si è definitivamente sfasciata quella di hop e liam questo potrebbe addirittura portare a una nuova storia d'amore quella tra thomas e hope visto che thomas ha avuto la impellenza di raccontare tutta la verità perché non voleva essere complice di questa bugia sul futuro figlio di sua sorella e voleva anche fare in modo che hope e liam tornassero insieme questo almeno è quello che lui dice che sia veramente in buona fede o meno questo lo dobbiamo ancora capire dalle varie narrazioni c'è da dire che brook logan è sempre molto guardinga nei confronti dell'ex marito della figlia thomas mentre rage ritiene che thomas sia definitivamente guarito e che sia sulla buona carreggiata dunque questi sono i nuovi i nuovi dettagli che abbiamo deciso di condividere con voi e vediamo un po che cosa accadrà presto sapremo chi è il personaggio infatti la presunta morte o morte effettiva non lo sappiamo ancora dovrebbe avvenire il 5 aprile alla prossima seguiteci sui social arrivederci